Piazza Carlo Alberto di Torino si anima per l'annuale edizione del Festival dell'Oralità Popolare. Da tutta Italia, dal resto del mondo, giungono canti e danze popolari, cibi e storie, le esperienze delle biblioteche condominali, le musiche con l'organetto, la pizzica e la tamurriata in piazza, le marionette e i giocattoli poveri. Tra gli appuntamenti indovina chi viene a cena, incontro con il giornalista Domenico Quirico e poi danze e musiche polacche e la lettura della Divina Commedia in dialetto.